Lo sport è come fucina di valori e talenti, come stimolo del territorio verso i giovani come motivo di impegno e determinazione. Il comune di Montesilvano e la comunità di sportivi oggi festeggia l'inaugurazione del nuovo campo di atletica in Via Senna e lo fa con l'orgoglio di chi da adesso in poi potrà dare ai propri cittadini un servizio mancato per molti anni. Era una necessità e questa necessità oggi diventa realtà e oggi inauguriamo questa splendida pista d'atletica. Pista d'atletica che significa essenzialmente sport, che significa lotta alle devianze giovanili, vita sana, vita all'aperto, condivisione e soprattutto amicizia. E su questi valori noi oggi vogliamo raggruppare tutte le associazioni presenti sul territorio affinché possa essere utilizzata nel migliore dei modi. Soddisfazione ed orgoglio anche da parte del CONI che ricorda come lo sport necessiti di spazi e attenzioni anche in un momento di così grande crisi economica. Il territorio del comune di Montesilvano aveva necessità di questa struttura perché è un territorio che accoglie 60-70 mila persone. Noi purtroppo in provincia di Pescara abbiamo solo la pista di atletica di Pescara, quindi questa è fondamentale per la crescita di questa disciplina, ma non solo di questa disciplina, di tutto lo sport in genere. Quindi speriamo che possa essere al più presto utilizzata dalle società del luogo, dalle scuole che sono una fucina per tutti gli sport. Adesso vengono a Pescara i ragazzi di Montesilvano, ce ne sono parecchi di ottima qualità. Speriamo che possano rimanere qui ad allenarci qui a Montesilvano.